Nuove misure anticontagio in parrocchia, arriva l'autodichierazione per sacerdoti, diaconi e catechisti. Il lungo Bisencio è pronto a riaprire le porte al Prato, intanto trema la panchina di Pagliuca. In quest'ora è nato un baby pit stop, lo spazio è stato realizzato nella sala d'attesa dell'ufficio immigrazione. Oltre 100 volontari alla raccolta di rifiuti organizzata anche a Prato da Plastic Free On Loose. La cattedrale è vista da una prospettiva inedita al via le visite guidate ai tetti del Duomo. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi dalla nostra redazione. Scattano nuove disposizioni anti-Covid nelle parrocchie della Diocesi di Prato. Ad essere interessati sono sacerdoti, diaconi e operatori pastorali. Ce ne parla Giacomo Cocchi. La Diocesi di Prato compie un ulteriore passo nella prevenzione al contagio da Covid. La misura riguarda sacerdoti, diaconi e operatori pastorali che svolgono un servizio stabile e continuativo come catechisti, sacrestani e animatori, volontari della carità e addetti alla segreteria. Con una disposizione contenuta in un decreto firmato dal Vescovo Giovanni Nerbini, si chiede loro di sottoscrivere una autodichiarazione nella quale si esplicita di aver ricevuto il vaccino contro il Covid, con una dose da almeno 14 giorni o con entrambe le dosi, oppure di essere guariti dall'infezione da SARS-CoV-2 da non oltre 180 giorni, oppure di aver conseguito l'esito negativo di un tampone. L'autodichiarazione, scaricabile dal sito web della Diocesi, ha validità per tutto l'anno e va conservata nell'archivio parrocchiale. «Dobbiamo educare ulteriormente il nostro senso di responsabilità», afferma Monsignor Nerbini, che ci fa comprendere come il ruolo che svolgiamo come sacerdoti e laici impegnati in parrocchia richiede attenzioni non comuni, che da una parte tutelano la salute delle persone, dall'altra mostrano un esempio di rispetto per gli altri. È bene ricordare che i ragazzi e i bambini che frequentano il catechismo non sono tenuti a presentare la citata autodichiarazione né la certificazione verde per partecipare agli incontri. La stessa cosa vale per la catechesi degli adulti. La parrocchia non è obbligata alla verifica del Green Pass. Le riunioni devono comunque svolgersi nel rispetto dei protocolli anti-Covid, distanziamento, mascherina e igienizzazione, tenendo sempre il registro delle presenze dei partecipanti. Mentre in caso di convegni, manifestazioni, feste parrocchiali, in tutti gli eventi che non riguardano strettamente la catechesi o l'attività liturgica, è necessario procedere alla verifica del certificato verde per l'accesso dei partecipanti. Tornano sotto quota 200 i nuovi casi di Covid in Toscana. Non succedeva dallo scorso luglio. I contagi registrati oggi sono 164, di cui 20 in provincia di Prato. Il tasso di positività è pari al 2%. Sei nuovi decessi a livello regionale, con un'età media di 85 anni e mezzo, uno nel Pratese. Si tratta della vittima numero 630 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Tornano a crescere però i ricoveri nei riparti Covid degli ospedali toscani. Oggi sono 334, 13 in più rispetto a ieri, 50 in terapia intensiva. 3 in più. Cambiamo argomento. A metà ottobre il Prato Calcio potrebbe tornare a giocare le partite casalinghe allo stadio Lungo Bisenzio. Guardate. I lavori per il ripristino dello stadio Lungo Bisenzio sono indirittura d'arrivo. Le commissioni consigliari 3 e 5, sport e lavori pubblici, hanno effettuato un sopralluogo allo stadio di Via Firenze per constatare lo stato di avanzamento dei lavori. Lo stato dell'arte è quello che siamo partiti da una commissione di luglio, di luglio di quest'anno, dove c'era veramente una situazione anche brutta a vedersi, sicuramente di buon auspicio. I lavori sono partiti lì in maniera seria, stanno andando avanti. Ci si augura veramente che nei prossimi 15 giorni si possa pensare di avere l'agibilità per la parte sportiva. E poi c'è il discorso, va gestito il discorso della tribuna, perché è finito i lavori sulla parte sportiva, cioè spogliatoi, campi di calcio, le altre due tribune esistenti, la curva e la tribuna ospiti, a cui punto i lavori verranno indirizzati sulla tribuna coperta. La data più probabile per il ritorno del Prato a giocare le proprie partite casalinghe all'impianto di Via Firenze è stata fissata in domenica 17 ottobre nella partita interna con il Seravezza Pozzi. Noi abbiamo fatto le ristrutturazioni necessarie per poter avere l'agibilità entro fine di settembre e quindi ora abbiamo soltanto una coda di questi lavori che ci consentirà però di dare l'impianto perfettamente funzionante per tutto quello che è necessario per la gestione ordinaria, con l'esclusione della tribuna principale. Più lunghi i tempi per il ripristino della tribuna centrale. In attesa della conclusione dei lavori l'amministrazione comunale sta valutando l'installazione di una tribuna mobile coperta che possa ospitare circa 50 persone. Tratta semplicemente di valutare se è la cosa giusta da fare e va a occupare uno degli spazi al lato della tribuna. Ce ne sono due di spazi abbastanza capienti, non ha bisogno di avere fondazioni, può essere appoggiata per terra. Ne stiamo cercando una che sia coperta perché in questo momento dobbiamo anche trovare quello che c'è disponibile sul mercato e non è un investimento grande. Poi il comune deciderà se vuole fare un noleggio a lungo termine oppure se vuole acquistarla per riutilizzarla da qualche altra parte per qualche altra evenienza. La tribuna invece centrale quando sarà disponibile ci dà una data, un'indicazione gennaio o febbraio? Ovviamente se mi chiede fra gennaio e febbraio è più possibile febbraio, poi noi si cerca di farla entro l'anno. Quindi questo è veramente tirare una monetina in aria in questo momento. Ed il Prato è incappato ieri in una nuova sconfitta. Torneremo ad occuparci nel corso del nostro Tg. Adesso parliamo del violento temporale che ieri pomeriggio si è abbattuto su Prato e che ha causato danni e disagi in tutta la città. Decine le chiamate arrivate ai vigili del fuoco alla municipale per la caduta di rami e tegole o per allagamenti. Il sottopasso di Pratilia è stato chiuso al traffico per allagamento, stessa sorte per quello di via erbosa. Le condizioni meteo avverse hanno causato situazioni di forte criticità e di pericolo anche in alcuni spazi pubblici di poggio a Caiano. Per questo con un'ordinanza sindacale sono state chiuse alcune aree verdi a scopo precauzionale che verranno riaperte dopo la rimozione dei detriti e dei rami caduti. Tra le aree chiuse figura anche il parco pubblico Medicio del Bargo. Uno spazio baby pit stop è stato realizzato nella sala d'attesa dell'ufficio immigrazione della Questura di Prato. L'iniziativa è in collaborazione con le sezioni pratesi di Soroptimist International Club ed Unicef. Un'area baby pit stop all'interno dell'ufficio immigrazione ha disposizione delle mamme che hanno bisogno di allattare e dei genitori che necessitano di uno spazio per cambiare il pannolino al proprio figlio. È quanto realizzato nell'ambito di un protocollo nazionale grazie alla collaborazione tra la Questura, il Soroptimist International Club e il Comitato Unicef di Prato. Stamani l'inaugurazione dello spazio provvisto anche di un separé per assicurare una maggiore privacy e di alcuni giochi a disposizione dei bambini. Ci fa piacere aver saputo quando abbiamo aderito a questa progettualità di essere uno dei punti della rete cittadina che potrà essere di sostegno e di supporto a chi viene a svolgere delle attività anche nel quotidiano, anche nell'attività di sportello per esigenze personali, di non sentirsi in difficoltà rispetto alla gestione delle occupazioni materne che devono essere poi alla fine favorite e incentivate. Il Baby Pit Stop all'Ufficio Immigrazione della Questura è il secondo realizzato a Prato da Soroptimist Unicef dopo quello all'anagrafe centrale di Piazza Cardinale Nicolò inaugurato a dicembre 2020. Abbiamo questo progetto con l'Unicef di fare altri punti di Baby Pit Stop di modo da creare una mappa che possa essere utilizzabile, quindi visibile dalle famiglie che se sono magari fuori da casa sanno che in quel posto, anche se non devono andare per motivi propri, possono entrare e fare le attività che il Baby Pit Stop consente. Nasce e partecipò la piattaforma digitale dedicata ai processi di partecipazione pubblica. I cittadini possono già esprimere la loro opinione in merito ai servizi dell'agenda digitale e all'evoluzione della rete Wi-Fi di Prato. I dettagli ce li racconta Lucrezia Sandri. Istituzioni sempre più vicine ai cittadini. È nata la piattaforma digitale Partecipo attraverso la quale è possibile esprimersi sui vari percorsi partecipativi attivati dal Comune di Prato. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo www.partecipo.prato.it per interagire è necessaria la registrazione dell'utente che potrà avvenire in modo anonimo tramite l'inserimento di uno pseudonimo e di un indirizzo email non visibile agli altri utenti. Una volta iscritti, i cittadini possono inviare proposte in merito alle consultazioni aperte, commentare le proposte degli altri secondo la modalità del forum, oppure compilare questionari. Al momento sono due i processi partecipativi online, di cui uno riguardante i servizi dell'agenda digitale del Comune di Prato 2021-2023. Quindi chiederemo ai cittadini di andare anche sulla piattaforma Partecipo per portare un contributo su che tipo di servizi vorranno implementare nei prossimi anni e come migliorare quelli che attualmente sono a disposizione. L'altro percorso partecipativo che abbiamo attivato riguarda i punti wifi della città. Come sapete Prato è una città con tanti punti wifi negli spazi pubblici. Con il percorso partecipativo chiederemo ai cittadini quali sono i punti wifi che secondo loro mancano alla nostra città. Entrambi i processi chiuderanno il 31 dicembre, in quanto processi permanenti, ovvero promossi dall'amministrazione comunale per orientare le proprie scelte su questi temi in vista del bilancio di previsione, saranno destinate ad essere riaperte ogni anno. È un progetto in progresso, nel senso che si evolverà con il tempo e puntiamo poi anche a mettere in discussione e quindi anche in partecipazione nuovi strumenti di programmazione, nuovi documenti, nuove azioni anche di altri assessorati. Ancora la cronaca. Il cadavere di un uomo di 65 anni è stato rinvenuto questa mattina in via Santa Margherita verso le 6. Il corpo era diverso sull'asfalto. Il decesso sembrerebbe essere riconducibile ad una caduta dall'alto. Sul posto sono intervenute la polizia e la Croce d'Oro. L'ipotesi ritenuta più probabile dagli inquirenti è quella di un gesto volontario da parte della vittima. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi del caso. Ha preso una sedia, l'ha messa vicino alla finestra e ha fatto un salto di un paio di metri andando a finire su un tetto che ha tutito la caduta. Protagonista dell'episodio avvenuto ieri sera, un 79enne ospite della RSA Casa Santa Maria della Pietà. L'allarme è stato dato dagli altri ospiti presenti nella stanza che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato l'uomo, la misericordia e la polizia. L'anziano portato in ospedale ha riportato fratture ad alcune costole e ferite. Le sue condizioni comunque non desterebbero preoccupazioni, ancora da chiarire i motivi del gesto. Sensibilizzare sul problema dei rifiuti partendo dalla propria città. Questa è la missione della Onlus Plastic Free che nella giornata di ieri ha organizzato eventi di pulizia in tutta Italia. Vediamo allora come è andata a Prato. In 111 si sono trovati all'anfiteatro di Santa Lucia per pulire le sponde del Bisenzio. Giovani, adulti e bambini armati di pinza telescopica e sacchi per la spazzatura hanno risposto all'appello della Onlus Plastic Free che nella giornata di domenica ha tenuto eventi di pulizia in tutta Italia per la precisione in ben 338 città. Ci aspettiamo a livello nazionale 30.000 volontari attivi contemporaneamente, raccogliamo rifiuti però facciamo anche sensibilizzazione. La gente che incontriamo ci vede, la volta dopo magari evita di gettare qualcosa a terra, si unisce a noi. La sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente ha sicuramente colto nel segno, soprattutto tra i più piccoli. È la prima volta che siamo qui perché siamo interessati a fare questo tipo di esperienza per aiutare a pulire la nostra città. C'è anche la Rebecca che è interessata a farlo, è contenta di farlo. Cosa ti aspetti da questa giornata Rebecca? Da aiutare la natura. Divisi in gruppi per rispettare la normativa anti-Covid, i volontari hanno raccolto i rifiuti, differenziandoli rigorosamente tra plastica e rifiuti indifferenziati. Per ora abbiamo trovato un sacco di fazzoletti di carta e un sacco di pezzi di plastica portaombrelli. Cosa avete trovato fino adesso? Tanta spazzatura! Plastica, poi sigarette, ferro e vetro. Ti stai divertendo? Sì! Plastic Free stima che alla fine della giornata siano stati raccolti 300 kg di rifiuti, che sono stati poi consegnati ad Alia. Funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Prato e Pistoia hanno sottoposto a fermo amministrativo 200 lampade da scrivania e altrettante lampadine a LED provenienti dalla Cina. La merce risultata sprovvista di marcatura CE. È stata inoltrata comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Un punto di vista inedito sulla cattedrale, quello che i visitatori hanno potuto ammirare in occasione dell'avvio delle visite sotto il tetto del Duomo a cura di Artemia e Prato Cultura. C'erano anche le nostre telecamere. Il Duomo di Prato è uno dei monumenti più importanti e conosciuti della città, che tutti, almeno una volta, abbiamo visitato. Conosciamo la Cappella della Sacra Cintola e gli affreschi di Filippo Lippi, ma se vi dicessimo che è possibile visitare il sottotetto del Duomo, questo weekend, infatti, la cooperativa Prato Cultura e Artemia hanno messo a punto delle visite guidate per scoprire questo lato nascosto della cattedrale. Questa visita guidata è un'occasione per intanto soffermarci su una parte del Duomo che di solito si fa velocemente quando si fanno le visite guidate, che è proprio il transetto. Invece ci sono diverse curiosità che meritano di essere scoperte. E poi si sale attraverso il campanile, si sale in questo spazio sotto il tetto del transetto dove si può vedere, per esempio, l'argano attraverso il quale si cala lo stemma del vescovo oppure ci sono due buchi, due buchi sopra le volte, che permettono di avere uno sguardo, una visuale veramente inedita e bellissima sulla cattedrale che vale sicuramente la pena di visitare. Le visite guidate nel sottotetto del Duomo si ripeteranno anche nel prossimo fine settimana, ma data la piccola dimensione dei gruppi necessari in uno spazio così ristretto, restano disponibili i pochissimi posti. Ma non temete, Artemia spera di poter riproporre in futuro questo e altri itinerari esclusivi alla scoperta del Duomo di Prato. Montemurlo festeggia Cristian Giagnoni che ieri ad Assisi ha conquistato il quinto titolo consecutivo al Giro d'Italia di Handbike. Grande la soddisfazione del sindaco Simone Calamai che ha preso la notizia con gioia. Ancora una volta Cristian dimostra la sua grandezza di uomo e di sportivo, affermato il primo cittadino di Montemurlo. Ad Assisi Cristian è stato strepitoso, ci ha creduto fino alla fine, non si è lasciato scoraggiare dai difficili mesi della pandemia, ma ha continuato ad allenarsi con la stessa determinazione di sempre. Ha concluso Calamai. Lotus, Ferrari e tante altre vetture moderne d'epoca sono state protagoniste a Prato e provincia nel weekend. Vediamo allora le immagini di questi affascinanti bolidi che hanno sfrecciato sulle strade della nostra città. Una piazza Duomo invasa da potenti e coloratissime Lotus ha dato il benvenuto sabato mattina alla prima tappa del raduno organizzato dal Club Lotus Italia, una due giorni alla scoperta delle terre di Leonardo e De Medici con tour stradali e visite guidate che si sono susseguiti tra Prato, Vinci e Artimino. Ben 37 supercar provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero hanno sfilato in centro storico scortate dalla polizia, accompagnate anche da alcune vetture storiche dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. In tanti si sono fermati ad ammirare i bolidi del celebre marchio inglese. Ogni evento targato CLI unisce passione per i motori, amicizia e appuntamenti culturali. Ogni raduno prevede visite guidate di centri storici oppure di musei. La cultura ha un aspetto importante così anche come l'aspetto paesaggistico. Scegliamo sempre dei percorsi molto e molto belli anche dal punto di vista paesaggistico come ad esempio in questo caso che faremo il Montalbano, quindi tutto il massiccio del Montalbano tra le colline, tra gli oliveti con l'arrivo poi a Artimino, il passaggio da Vinci, insomma veramente in un'altra parte dal centro storico di Prato che è bellissimo, quindi insomma c'è tanta storia, tanta cultura. Alla manifestazione hanno preso parte anche il sindaco di Prato Matteo Biffoni, il vicequestore vicario Francesco Trigiani, la polizia municipale e il gruppo Ducati di Pistoia. Il raduno è poi proseguito a Vinci e ieri tra le colline Mozzafiato di Artimino per il test di regolarità, una prova non competitiva con partenza e arrivo a Villa La Ferdinanda. Ma ieri in provincia di Prato è andato in scena anche l'appuntamento Belle Curve con 50 equipaggi di auto d'epoca e supercar, protagonisti dell'evento organizzato dagli amici del Cavallino con la regia di Mauro Bertoli. Un percorso di 96 chilometri sulle bellissime colline toscane con varie tappe fino a raggiungere per la cena di gala Villa Guicciardini a Usella. Il raduno nasce da una mia idea, è vero, ma subito appoggiata dal club di amici di Cavallino e Prato e il presidente Sauro Migliore. Sauro ha subito accolto questa idea, l'ha abbracciata e tutti hanno dato davvero una grossa mano. L'intento era di girare le nostre belle colline che sono uniche al mondo. Siamo andati a Carmignano, siamo andati a vedere il museo di Leonardo da Vinci e poi per finire in bellezza non si poteva che finire la Villa Guicciardini che sta diventando, è già una realtà nel nostro territorio, è un fiore all'occhiello come può essere i nostri marchi. Ancora sport, ancora calcio, nuovo passo falso per il Prato e la panchina di Pagliuca è già in bilico. Acque agitate in casa Prato, seconda sconfitta consecutiva per la squadra bianco-azzurra superata in casa al Piero Torrini di Sesto Fiorentino dalla matricola Alcione Milano per 2 a 0. A fine gara le dichiarazioni del direttore generale Ivano Reggiani che potrebbero sancire la fine del rapporto con il tecnico Luigi Pagliuca. Il Prato non può permettersi due sconfitte dietro fila, quindi la situazione in questo modo non può assolutamente andare avanti. Quindi il mister Pagliuca sarà esonerato? Ma adesso parleremo con il presidente, vedremo un attimo il da farsi, parleremo anche col mister per rispetto e nelle prossime 48 ore prenderemo una decisione. Nella prima casalinga del Prato, gestione Commini, appena 200 spettatori paganti. Circa centro ultras e incomiabili hanno incitato la squadra dal primo all'ultimo minuto al Piero Torrini. Rimane un dato di fatto e una risposta molto fiacca della città alla tanto reclamata voglia di cambiamento. La partita con l'Alcione Milano evidenzia le difficoltà di una squadra, quella laniera, ancora in fase di assemblaggio. Reggiani disinnesca Morselli in avvio, mentre Ferretti ha l'unico sussulto laniero nel corso della prima frazione. Al trentaseiesmo, infortunio per Maltezzi, si teme un lungo stop. Al quarantunesmo la rete dell'Alcione con Manuzzi che realizza con freddezza e 1-0 per la matricola milanese. Nella ripresa il tecnico Luigi Pagliuca prova a rivoluzionare la squadra ma il risultato non cambia. Al cinquattortesmo il raddoppio Meneghino con una sfortunata autorete di Diallo. E 2-0 per l'Alcione Milano. Alexis ci prova, senza fortuna, Shannamè pure, ma sotto il diluvio di Sesto Fiorentino il Prato deve incassare la seconda sconfitta consecutiva e con tutta probabilità dovrà cercare anche un nuovo allenatore. Nelle prossime ore sapremo. Torna anche questa sera l'appuntamento con Il Gioco è Fatto, allora ci colleghiamo con Massimiliano Masi per le anticipazioni. A te Massimiliano. Grazie Giulia, buonasera a tutti gli amici ad Ascolta e alla Visione. Alle 21.20 da non perdere la puntata del Gioco è Fatto. Il Prato perde in casa con l'Alcione Milano, seconda sconfitta consecutiva e acque agitate per quanto riguarda la società bianco-azzura che ha deciso di interrompere il rapporto con Luigi Pagliuca. Proprio in queste ore il Prato sta ultimando i sondaggi per individuare il nuovo allenatore. Cercheremo di darvi in diretta il nome del nuovo condottiero bianco-azzurro. Parleremo poi di tutta la giornata per quanto riguarda il campionato di Serie D Gironedì con il pareggio dell'Aglianese che impatta 1-1 a Forlì e con un campionato che continua ad emettere anche molte sorprese. Per esempio il Rimini che aveva fatto un sol boccone del Prato pareggia 2-2 in rimonta sul campo della Bagnolese. Focus poi anche sul Girone con un occhio di riguardo per lo Scandicci che batte il Poggi-Bonsi ed è a punteggio pieno. Due vittorie consecutive per la formazione guidata in panchina da Atos Rigucci. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, focus sulla derby pratese con il Prato 2000 che supera la Zenit sotto un'acquazzone terribile. Avremo le immagini anche di questo confronto davvero gustoso. Potete interagire con noi, lo sapete, attraverso gli sms oppure l'applicazione whatsapp. Allora il numero è questo, 331-1888-676. 21 e 20, rigorosamente in diretta, una puntata da non perdere del gioco che è fatto. Avremo anche il nuovo allenatore del Prato. Non cambiate canale, a più tardi. Giulia. Grazie Massimiliano. Prendere al via il 17 ottobre il campionato di Serie A di rugby che vede impegnati i cavalieri Union Rugby Prato VI. Al Golf Club Le Pavoniere la presentazione ufficiale della squadra allenata da Alberto Chiesa. Alla presenza del sindaco Matteo Biffoni e dell'assessore allo sport Luca Vannucci. Ripartiamo dopo un anno e mezzo di stop. Questo speriamo che sia una stagione di normalità. Ce l'auguriamo tutti. È molto importante sia a livello sportivo che per tutto quello che ci circonda. Ci auguriamo che sia una stagione positiva anche per quanto riguarda i risultati sportivi. È una squadra molto giovane ma crediamo anche molto solida. Speriamo di rivedere anche tante persone sugli spalti. Il campionato inizia il 17 ottobre. È un campionato anche abbastanza tosto, il girone 3 del centro-sud. Però insomma noi scendiamo al campo sempre per dare il 100% e per cercare di vincere tutte le partite. Quindi speriamo che vada tutto nel migliore dei modi. La squadra è pronta, stiamo lavorando bene nel pre-season. I ragazzi sono veramente carichi e positivi. Il club si augura il meglio quest'anno. Io sono molto ambizioso. Penso di poter dire che non mi nascondo se puntiamo in alto con la squadra. E' tutto per questa edizione del nostro Tg. Vi lasciamo al meteo a cura del Consorzio Lama. A seguire come detto l'appuntamento è con Il Gioco è Fatto con Massimiliano Masi. L'informazione torna domani alle 13.45. Continuate a seguire tutte le news sul nostro sito tvprato.it. Arrivederci e una buona serata. Stop! Purtroppo questo non succede solo nei film. Ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è. Affidati a veri professionisti. Prato all'armi. Una sicurezza da Oscar. Prato Polli. Professionisti della sicurezza. Non guardi. Noi della celateria Zucchero siamo ossessionati dalla qualità e ricerchiamo le migliori materie prime ovunque queste si trovino. Vi aspettiamo in via Carlo Marz 74 e in via Bologna 159 a Prato. Salve, una buona serata. Andiamo a vedere quello che ci attende per domani. Questa è la situazione sinottica attesa sull'Europa con una temporanea rimonta dell'alta pressione e una nuova estesa perturbazione atlantica che lentamente si avvicina al continente europeo e ci dovrebbe interessare probabilmente in maniera abbastanza marginale a partire dalla giornata di giovedì. Andiamo a vedere ora quello che ci attende per i prossimi giorni. Per domani miglioramento ulteriore con cielo al mattino nuvoloso sulle vallate interne per nubi basse, altrove cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio avremo ulteriori schiarite, qualche locale addensamento solo sui rilievi appenninici e qualche vellatura in transito. I venti, lo vedete, sono deboli settentrionali con mari prevalentemente poco mossi, stazionari o in lieve aumento le temperature massime fino a 26-27 gradi. Siamo ancora su valori superiori a quelli tipici del periodo. Per mercoledì cambia poco, ancora una giornata discreta con cielo parzialmente nuvoloso, poco nuvoloso per qualche modesto avvenzamento e per il transito di locali velature al mattino. Nel pomeriggio un moderato o un modesto aumento delle nubi sui rilievi potrà dar luogo al più a qualche isolato rovescio sui crinali appenninici. Bene, con questo direi che è tutto e vi auguro una buona serata. A voi la linea. Noi della gelateria Zucchero siamo ossessionati dalla qualità e ricerchiamo le migliori materie prime ovunque esse si trovino. Il nostro è un gelato naturale di fresca maturazione senza additivi e da sempre senza glutine, come i nostri dolci e il nostro yogurt. Vi aspettiamo in via Carlo Marz 74 e in via Bologna 159 a Praso.